Quando partiranno realmente questi lavori? Abbiamo delle date certe finalmente, ho avuto rassicurazioni, ieri sono stato a Palermo, che entro dieci giorni verrà firmato questo famoso protocollo, c'è la bozza già definitiva, quindi avremo la firma, ho parlato con il direttore generale di Eni, che mi ha assicurato che loro sono pronti, quindi l'amministrazione, ho parlato con Siciliano, mi ha detto che è pronto, la Regione, ho parlato con il segretario generale e sono pronti, quindi c'è semplicemente da fissare la data e mi hanno detto che entro dieci giorni verrà fissata, con la firma del protocollo verranno trasmessi i soldi alla Regione, che verranno girate alla protezione civile, da lì la protezione civile, che è sinonimo di velocità, inizierà per prima cosa la tipizzazione delle sabbie, avuta la tipizzazione si può partire con la gara, quindi i tempi ormai dovrebbero essere scanditi. Quando la politica vuole, alla fine ottiene, perché non si è pensato prima? Su questa cosa posso dire che ha lavorato un sistema, io ho sempre pensato che in tutti i problemi ci volesse una cittadinanza attiva e finalmente si è messa in moto la politica, i cittadini associati, perché non è che il cittadino può intervenire, ma le associazioni si sono messi a fare rete, questo secondo me è un modello che dovremmo esportare anche sulle problematiche che riguardano la diga di Sueri, perché oggi nel momento storico contingente è l'industria più grossa che abbiamo, le nostre dighe sono ammalate, io penso che dovremmo costituire, lo proporrò ai miei, di costituire un altro gruppo di lavoro che segue le problematiche della diga, sino ad arrivare al fine di poterla, è ammalata, a poterla guarire. Questo è l'obiettivo, perché da soli non si fa niente, quindi creare la rete, politica, locale, deputazione regionale, tutti assieme siamo in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Non è paradossale avere una città di mare come Gela, dunque baciata dal mare, in cui il porto rifugio non è fabbibile? Vi do una notizia, venerdì sarà firmato il protocollo Sicilia, l'accordo tra la Sicilia e il governo nazionale, in cui c'è il porto, chiamiamolo grande per non confonderlo con questo, l'opera definitiva. Ci sono 60 milioni di euro, quindi presumo che anche qui ci siamo portati avanti, perché questo lavoro che si sta facendo con la protezione civile è un lavoro previsionale. Previsionale significa che è integrato all'interno del grande porto, quindi sono già lavori che sono già stati fatti, la tipizzazione che già la stiamo facendo, quindi per il grande porto penso che ci saranno tempi più celeri. Qualcosa si sta muovendo.